Poi ci siamo scambiati i numeri di telefono e ci ho spagato parecchio al telefono, parecchio tempo tutta la settimana ed è completamente diverso, no? Perché poi la volta dopo che ci siamo rivesti qua, la stessa impressione, cioè da Dio mi dà ci sono altre impressioni e al telefono un'altra. Però poi ci sono un bel ragazzo, ci parlo bene, ci esco, il mio modo per capirlo è questo. No, noi siamo usciti, è stata un'attività piacevole e sicuramente di prima conoscenza, io penso che continuerà e vediamo come vanno le cose. E tu la vuoi visto? Vandi con lui? Sì. 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 Grazie a tutti.